Accorato a distanza di 96 anni dalla demolizione dei tre edifici più importanti Palazzo Ducale, Palazzo Candido e Chiesa del Sacro Monte di Pietà la Piazza del Pesce, ovvero Piazza di Bagno ieri è stata finalmente riconsegnata ai cittadini con un look del tutto nuovo È una espressione abusata ma poche volte capita di parlare del salotto buono di una città e trovarsi davvero in un posto del genere questo fino a qualche anno fa qui c'erano i baracconi del mercato del pesce questo era un parcheggio, ora è davvero il cuore della città? Ora il cuore della città è reinventato in chiave moderna ma che mantiene le radici solide nel passato dove abbiamo i piedi c'era il Palazzo Ducale, uno dei più belli un po' più in là c'era una chiesa ma comunque questi luoghi non erano così con quest'opera di rigenerazione abbiamo voluto anche rendere giustizia al passato a quello che accadde cento anni fa, spiegare perché non è semplice reinventare in chiave moderna quello che era edificato di secoli addietro ma siamo convinti, ecco questa è la cosa più importante che attorno a questi esempi di rigenerazione si ha la rigenerazione fisica dei luoghi ma la cosa importante è che dalla rigenerazione fisica ce ne sia una economica perché rigenerare questo luogo siamo convinti che automaticamente attribuisce già un maggior valore ai fabbricati che si affacciano, dà possibilità di insediamento di nuove attività che noi speriamo che non siano solo attività di somministrazione ma anche attività commerciali è ovvio che ogni pietra non è casuale come è stata posta tutto è stato fatto sotto l'alta sorveglianza della soprintendenza su un progetto elaborato negli anni passati con grandissima cura ma anche le panchine per esempio, quelle che sono sedute sono gli angoli dei vani che esistevano nel palazzo che oggi non c'è più abbiamo riportato a luce quello che era l'avvio a un vano seminterrato o la fontana l'abbiamo messa ed è di un certo tipo dove prima c'era la chiesa e richiama una fonte battesimale gli aranci amari, gli aranci amari perché? perché in questo luogo c'era il monastero dei francescani non c'è più, si sa, negli atri, nei chiostri dei monasteri c'erano gli agrumi quindi non sono scelte fatte così per gusto magari si può pensare del sindaco di oggi o di ieri e c'è tutto uno studio scientifico che soprattutto serve a restituire uno spazio ma non far perdere l'identità e la storia del passato grazie! grazie!